Sì, siamo al 20% di seggi scrutati e da un punto di vista statistico indicano una tendenza, quindi qua parlo più da esperto in statistica che da politico, quindi c'è una tendenza nel quale siamo terzi con un risultato importante del candidato Pandecki che arriva al 30%, ma ripeto è un 20% di seggi scrutati. Politicamente le cose ancora possono cambiare, noi aspettiamo fiduciosi. Certo, la matematica non è dalla nostra parte, ma ancora c'è un po' di tempo. La domanda che mi viene spontanea è che l'aspettavate questa tendenza? Questa tendenza sinceramente per noi più o meno siamo nei valori che ci aspettavamo, per Pandecki forse l'abbiamo sottovalutato.